Questo sostanziale stop per la linea 6, per la vicenda del prebiscito. Vicenda triste, faremo ricorso chiaramente. Io mi auguro di poter incontrare prima di Natale il Ministro dei Beni Culturali, perché debbo capire dalle parole del Ministro che cosa sta accadendo, perché questa non è una situazione che la si può racchiudere in un fatto apparentemente solamente tecnico, una questione molto seria e può avere conseguenze drammatiche per la nostra città. Spero di vederlo prima di Natale, perché la situazione può avere conseguenze drammatiche se non si trova una soluzione immediatamente a questa triste vicenda, che tutto sembra tranne che una cosa genuina.